Oltre 100 persone in una palazzina di 7 piani a Santa Maria di Pisa, tra questi alcuni disabili, attendono che venga ripristinato l'ascensore. Il vicepresidente della giunta regionale Pace incontrerà a Roma la Boschi per rivendicare gli accantonamenti versati allo Stato. Due pregiudicati sono stati arrestati dagli agenti della questura di Sassari dopo aver rapinato un anziano con una pistola a giocattolo. Tg di Canale 12, buonasera e ben trovati. In apertura partiamo da Sassari, l'avete sentito dagli strilli del nostro sommario gravi disagi in una palazzina di via Donizetti. Da oltre un mese l'ascensore dello stabile di 7 piani è fuori uso. Oltre 100 persone, tra cui disabili, anziani e cardiopatici, sono in attesa che i lavori di ripristino vengano eseguiti. Di fatto sono già stati approvati, ma mancano le firme dei dirigenti del settore competente. Intanto molti dei disabili che abitano lo stabile devono, tra gli altri disagi, rinunciare anche a recarsi alle visite mediche. Sentiamo i dettagli nel servizio e la testimonianza dei condomi. Però l'ascensore ci serve per uscire. Perché lei ha un disabile in casa. Certo, ho l'assistenza in casa. Loro lo sanno, hanno portato il foglio. E quindi da più di un mese la persona che vive con lei non può uscire di casa. Non può uscire di casa, no. Oltre 100 persone sono in attesa da più di un mese dei lavori di ripristino dell'ascensore della palazzina di via Donizetti 25 a Sassari, un edificio di 7 piani nel quartiere di Santa Maria di Pisa, abitato da 28 famiglie, molti gli anziani e i disabili. Sono rimasto bloccato a casa che non potevo uscire. Con i bastoni riesco a camminare. Però c'è qualcuno che non cammina neanche con i bastoni. Ha bisogno dell'ascensore perché è in carrozzella. I lavori dello stabile fanno parte di un complessivo intervento di manutenzione straordinaria che riguarda anche altre quattro palazzine popolari di via Nulvi, via Leoncavallo e via Pozzo Maggiore e altri tre edifici, tra cui una scuola. La richiesta di intervento è stata inoltrata già nel mese di dicembre 2016, quando l'ascensore di via Donizetti iniziava ad avere i primi problemi, fino a quando a marzo ha smesso di funzionare, lasciando a piedi i condomini, alcuni dei quali disabili, che tra gli altri disagi devono anche rinunciare a recarsi alle normali visite di controllo. Adesso il danno è oltretutto il doppio. Non ci danno risposte. Ci hanno detto che i lavori sono stati approvati, i soldi sono stati trovati, però non si vede niente e noi siamo sempre a piedi. Grazie anche all'intervento di Sassari si muove. L'assessorato competente ha preso in carico con celerità alla situazione dei condomini di via Donizetti. I lavori sono stati deliberati, ma sono in attesa di essere controfirmati dai dirigenti del settore lavori pubblici. Noi adesso speriamo che l'assessore competente si dia una mossa, non tanto lui che credo che si stia dando da fare, ma chi eventualmente deve mettere queste firme. E ora la politica regionale, la vertenza tra regione e Stato. Fra due giorni il vicepresidente della Giunta Raffaele Paci incontrerà a Roma la sottosegretaria Maria Elena Boschi per rivendicare come illegittimi gli accantonamenti versati a Roma. Secondo i calcoli della regione lo Stato dovrà restituire alle casse isolane 113 milioni di euro spesi sulla sanità. Ci racconta tutto Marco Sanna. Incontro cruciale sull'avvertenza accantonamenti della regione Sardegna giovedì 20 aprile a Roma. Ci sarà infatti alle 12 nella sala Razzi di Palazzo Chigi un incontro fra il nostro assessore alla programmazione e vicepresidente della Giunta Raffaele Paci e la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi. Si chiederà una ridefinizione al ribasso delle risorse che lo Stato incamera quale contributo alla finanza pubblica da parte dell'isola. Si discuterà anche del dossier già presentato al sottosegretario degli affari regionali nei mesi scorsi. Lo stesso illustrato all'allora presidente del Consiglio Renzi dal governatore Sardo Francesco Pigliano in occasione della firma del patto per la Sardegna. La compensazione richiesta monta 113 milioni di euro perché la Sardegna non ha usufruito dei fondi inseriti nella legge di bilancio 2017 riservati alle regioni ordinarie per il finanziamento di investimenti e per i farmaci innovativi. Inoltre in relazione al patto firmato con il ministro Padoan la regione sostiene che occorra rivedere la quota degli accantonamenti previsti che finora tra il 2012 e il 2017 hanno portato nelle casse dello Stato 3,3 miliardi di euro compresi 781,7 milioni per il 2017 e passando dai previsti 848 milioni per il 2018 ai 148,4 milioni stimati dall'isola. Per questo motivo viene sollecitato un impegno formale da parte dello Stato per non imporre nuovi accantonamenti e per non prorogare quelli esistenti a meno che non si verificano eventi eccezionali e imprevedibili e dopo una preventiva intesa fra Stato e Regione. Andiamo a Palazzo Chigi, forti delle nostre ragioni e pronti a farle valere, ha dichiarato l'assessore Paci che si appellerà fra l'altro a due sentenze della Corte Costituzionale sugli accantonamenti dovuti dalle regioni a Statuto Speciale. E ora torniamo a Sassari, approvata dalla Giunta Sanna la Costituzione della Consulta dello Sport che ha accolto una proposta dell'ex assessore Casu. Il nuovo organismo dovrà ora essere discusso in Consiglio Comunale. Sandra Sanna. Approvata dalla Giunta Comunale di Sassari la proposta di Costituzione della Consulta Comunale dello Sport che era stata avanzata dall'ex assessore Vittoria Casu. La pratica adesso approverà la commissione competente per poi essere discussa in Consiglio Comunale. Un'occasione, secondo l'estensore della proposta, di un confronto allargato per definire le politiche per il sostegno della pratica sportiva. Tra le funzioni del nuovo organismo, così come previsto nel primo articolo del regolamento, c'è proprio quella di svolgere un accordo tra il mondo dello sport e l'amministrazione comunale. La consulta sarebbe presiduta dall'assessore allo sport e i componenti verrebbero designati da federazioni ed enti di promozione che operano sul territorio, tra i rappresentanti istituzionali, delegato provinciale del CONI, delegato provinciale del Comitato Italiano Paralimpico, un rappresentante del Centro Universitario Sportivo e un rappresentante del MIUR. Il regolamento disciplina anche le modalità di convocazione, le spese per il funzionamento della consulta e la durata, oltre alla decadenza, le dimissioni, alla surroga dei componenti e l'eventuale incompatibilità. La Camera di Commercio di Sassari, la sua autonomia al centro di un incontro che ha visto protagonisti parlamentari, consiglieri regionali e l'assessore all'industria Maria Grazia Piras. L'obiettivo è mantenere vivo l'ente camerale che consente l'autonomia e la tenuta di un settore così vitale per l'intero territorio. Sentiamo. La Camera di Commercio di Sassari deve rimanere autonoma e questo l'imperativo per salvare l'intera autonomia del sistema economico del Nord Sardegna, un traguardo che diventa il segnale di un territorio che non vuole vedere cancellata o depotenziata un'altra importante realtà di governo locale che rischierebbe di vedere indebolito il proprio sistema economico ed imprenditoriale che conta quasi 70.000 imprese. Su questo tema si è tenuto un incontro nella sede camerale sassarese con parlamentari, consiglieri regionali e l'assessore regionale all'industria Maria Grazia Piras, un incontro a cui hanno preso parte inoltre il Consiglio e l'Aggiunta Camerale, tutte le rappresentanze imprenditoriali e le principali sigle sindacali. La nostra posizione con il Governo nazionale deve essere dura, ha sottolineato la titolare dell'industria, l'istituzione camerale deve essere preservata in autonomia per puntare allo sviluppo economico del territorio, salvaguardi e rilancio dei posti di lavoro. Sarà determinante che tutti si rimanga uniti in questa battaglia comune. Non è un problema di riforma, ha sottolineato il Presidente della Camera di Commercio di Sassari, Gavino Sini, ma di possibile ulteriori messi in difficoltà di un'altra istituzione del territorio del tessuto imprenditoriale che rappresenta. A questo punto si può agire sulla conferenza Stato-Regioni e rivendicare uno schema di riforma che prevede tre Camere, spiega il Senatore Silvio Lai. Questo modello potrebbe essere proposto dalla Giunta e dal Consiglio regionale in appoggio alla richiesta del territorio che deve trovare le forze economico-sociali e tutte le parti politiche unite. Sulla vicenda interviene anche il Presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau. Assurdo privare una Camera di Commercio che rappresenta quasi 70.000 imprese in un contesto dinamico come quello del Nord Sardegna. Credo che su questa base ci siano tutti i presupposti per derogare alla norma e ritengo che la Regione lo debba richiedere a gran voce e schiena dritta. A difesa dell'autonomia dell'ente camerale è anche il Consigliere regionale del PD Luigi Lotto. La conferenza Stato-Regioni è l'unica strada praticabile in questo momento e il Consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde fa appello all'unità territoriale. È necessario un tentativo compatto per difendere le istituzioni locali, visto ciò che è successo per la città metropolitana. Parliamo di trasporti. A un anno e tre mesi dall'insediamento per il presidente dell'ATP Roberto Mura è tempo per un primo bilancio. Nei prossimi giorni sarà presentato uno studio dedicato alla riorganizzazione della rete di trasporto pubblico a Sassari. L'intervista è realizzata da Luca Fodai. Saranno presentati nei prossimi giorni i risultati di uno studio dell'ATP dedicato alla riorganizzazione della rete di trasporto pubblico del Comune di Sassari e basato su una ricerca di carattere ingegneristico. Tra le criticità più rilevanti ci sono itinerari lunghi e tortuosi e sovrapposizioni di linee. L'obiettivo è disegnare il nuovo assetto dei servizi urbani in città, spiega il presidente dell'azienda trasporti pubblici di Sassari, Roberto Mura. I chilometri che effettuano in un anno i nostri mezzi in città sono un numero ben definito, sono esattamente o circa 4.200.000 e sono fissati dalla regione attraverso un contratto di servizio. Ecco che quindi per migliorare ulteriormente questo servizio noi dovremo in questa prima fase effettuare un piano di ottimizzazione. Mi spiego meglio, se oggi ATP avesse bisogno di percorrere un chilometro in più in una certa zona della città, questo chilometro noi lo dovremmo andare a recuperare da qualche altra parte, perché comunque complessivamente i chilometri da percorrere sono sempre quei 4.200.000. Le prime novità saranno introdotte a partire da maggio. Quello che noi metteremo in campo è in effetti il primo step di una trasformazione molto più ampia che stiamo portando avanti con ATP, che nel medio e lungo periodo porterà non solo a un'ottimizzazione dei nostri servizi, ma anche specialmente ad una implementazione degli stessi. Il presidente Roberto Moura e il nuovo CDA si sono insediati all'inizio del 2016. Già dall'inizio ho potuto constatare che l'ATP fosse un'azienda ben strutturata e fondamentalmente sana e quindi avendo trovato i conti in ordine ho potuto dedicarmi a pieno a migliorare effettivamente il servizio finale verso l'utenza. Se in tutta la Sardegna crescono i servizi di assistenza per le automobili come officine, carrosserie, elettrauto e altri ancora, Sassari e Cagliari gli stessi servizi sono in forte calo. Fra le due città sta peggio Sassari, dove il decremento di esercizi di assistenza è calato di oltre il 30%. Sentiamo. Drastico calo a Sassari dei servizi legati all'assistenza dell'auto negli ultimi tre anni. in controtendenza insieme a Cagliari rispetto alla crescita generale del settore nell'isola. Dal 2016 in Sardegna, infatti, la rete costituita da carrosserie, centri di revisione, elettrauti, gommisti, meccanici, autolavaggi, autoconcessionari e stazioni di servizio ha toccato quota 3.763 aziende. Rispetto al 2014, quando la rete di assistenza degli autoveicoli era costituita da 3.708 aziende, vi è stata una crescita dell'1,5%. La provincia della Sardegna, che dal 2014 al 2016 ha fatto registrare la crescita maggiore del numero di aziende dedicate all'assistenza degli autoveicoli, è il Medio Campidano, più 6,7%, seguita da Carboni e Iglesias, più 4,6%, Olbi a Tempio, più 4,5%, Ogliastra, 2,7% e Oristano, più 9%. A Sassani invece vi è stato un grosso calo, meno 34,6%, meno marcato ma ugualmente a Cagliari, meno 22,7%. A diffondere i dati sulla situazione degli esercizi di assistenza alle auto è l'Auto Promotech, che ha pubblicato il volume L'autoriparazione e i suoi protagonisti, che verrà distribuito in occasione dell'apertura della prossima edizione di Autopromotech il 24 maggio prossimo presso il quartiere fieristico di Bologna. E ora parliamo di servizio idrico. Sono stati eseguiti oggi i lavori di manutenzione sull'impianto di sollevamento di Monte Orone. Da Notizia Banoa che comunica che l'erogazione idrica sarà ripristinata in tutta la città a partire dalle 5 di mercoledì mattina. Sono in corso di esecuzione, oggi martedì 18 aprile, i lavori di manutenzione programmati sull'impianto di sollevamento di Monte Oro. L'intervento comporta una riduzione del corso della giornata della portata di acqua in arrivo dal potabilizzatore di trunco reale verso Sassari. Le squadre di Abanoa sono impegnate dall'alba nella sostituzione di una parecchiatura posizionata in ingresso al serbatoio. Durante i lavori è necessario effettuare una serie di manovre in rete con chiusure e regolazioni delle portate. Per ridurre al minimo i disagi, soprattutto per i quartieri serviti dal serbatoio di via Milano e interessati dalla chiusura serale, si sta incrementando la portata dal B di Ginzu, con un'interruzione dell'erogazione solo a partire dalle 17 e non dall'inizio dei lavori all'impianto. Fino alle 5 del mattino di mercoledì mancherà l'acqua nei quartieri di Rufangazzo, San Giuseppe, San Paolo, Porcellana Alta, Monserrato e Tingari. Nelle zone alte del centro storico, Monte Rosello, Santa Mela di Pisa, Latte Dolce e Porcellana, ci sarà invece una riduzione di portata con conseguenti cali di pressione. Alla ripresa dell'erogazione non sono esclusi fenomeni di torbidità legati allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Ogni variazione rispetto a quanto programmato è comunicata attraverso il sito istituzionale www.abanoa.it Ed ora la cronaca. Due pregiudicati sono stati arrestati dagli agenti delle squadre volanti della questura di Sassari per rapina e due avevano sottratto un portafoglio ad un anziano in via Napoli dopo averlo minacciato e colpito con una pistola giocattolo. Sentiamo la cronaca. Arrestati dalla polizia due uomini per rapina, si tratta di un sassarese di 32 anni e di un algherese di 49, entrambi con precedenti di polizia. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio nella parte alta di via Napoli quando un pensionato è stato aggredito e colpito alle spalle da un individuo armato di pistola che subito dopo avergli sottratto il portafoglio si è allontanato a bordo di un'auto dove lo attendeva un complice. Immediatamente allertati gli uomini delle squadre volanti hanno rintracciato il veicolo segnalato e il suo proprietario che è stato anche trovato in possesso di una pistola giocattolo nascosta all'interno del veicolo nel cassetto portaoggetti. Ulteriori indagini hanno permesso di rintracciare il secondo individuo che invece aveva cercato di dileguarsi a piedi. Inoltre altri controlli hanno anche permesso il ritrovamento di una seconda pistola, anche questa giocattolo ma utilizzata probabilmente per colpire l'anziana vittima. Una volta arrestati e condotti in questura i due mavilventi si sono accusati vicendevolmente. L'autorità giudiziaria ha quindi confermato il fermo e disposto il trasferimento nel carcere di Bancali. Sono in corso ulteriori indagini per risalire agli autori di una rapina avvenuta nelle prime ore del mattino a Sassari nei confronti di una donna che si stava recando sul posto di lavoro a cui è stata sottratta la borsetta, sempre sotto la minaccia di un'arma che potrebbe essere ricondotta ai due fermati. Ed ora la musica giovedì 20 aprile alle 21 in programma nella sala Sassu del Conservatorio Canepa Sassari. Il quarto appuntamento della rassegna, i concerti di primavera. La violoncelista inglese Vashti Hunter e il pianista Maurizio Barboro interpreteranno la sonata opera 102 di Beethoven e composizione di Schumann, Debussy e Codali. Ed ora ci fermiamo un istante per il break pubblicitario. Torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva. In primo piano la Dynamo. Restate con noi. Torniamo in studio per la pagina sportiva. In primo piano il basket. La Dynamo in anella la quarta vittoria di fila in campionato e conferma la posizione in classifica. A fine gara abbiamo sentito il capitano bianco-blu, Jack De Vecchi. Icoribichesu. La Dynamo Banco in Sardegna batte Capodorlando e consolida il quarto posto in classifica. A fine gara l'impressione di Jack De Vecchi, capitano dei giganti. Il gruppo, io ho sempre detto, fa la differenza. Con i singoli si va poco lontano. Con il gruppo ci si può togliere qualche soddisfazione. Noi adesso stiamo guardando partita per partita. Poi vogliamo arrivare a play-off pronti per giocarci tutte le carte possibili. Sicuramente siamo in un bel periodo toccando ferro. Nel senso che comunque l'emiliazione della Coppa Europea poteva un po' abbatterci. In realtà non è stato così. Adesso stanno riuscendo a lavorare meglio in settimana. La cosa importante è che ci è mancata in questi mesi. Si vede anche sul campo, penso. Adesso dobbiamo affrontare queste ultime tre giornate al meglio, cercando di prepararci per affrontare play-off in maniera migliore possibile. Ed era questa l'ultima notizia per questa edizione. Non ci sono aggiornamenti dell'ultimo ora. Io mi fermo qui. Vi ricordo che potrete rivedere questa edizione del nostro telegiornale sul sito, canale12.it, e l'intera nostra programmazione dei vostri smartphone o tablet attraverso wifi.tv.tv. Inoltre, se siete in possesso di un decoder Sky, e ci trovate al canale 5012. L'informazione torna domani mattina alle ore 7. Come di consueto, non dimenticate la striscia informativa delle ore 14. Allo spazio delle notizie nazionali curate dall'agenzia di stampa ADN Cronos. Ma vi invito a rimanere insieme a noi anche dopo l'informazione, perché c'è da seguire l'imperdibile 14esima puntata di Aspiri News. Il TG statilico ha cura di Aspirina. Dunque restate insieme a noi. A me non resta che darvi appuntamento domani alle 19.45 con il telegiornale. Vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.